Il più cordiale saluto da ETG edizione marchigiana del nostro notiziario che ricordo va in onda in contemporanea sia sulle frequenze di ETV canale 12 che in streaming sul nostro sito etvmarche.it. Siamo live anche sulla nostra app e sulla nostra pagina Facebook ETV Marche. In apertura di questa edizione una news legata alla cronaca, vedete l'immagine diciamo subito a dispetto della spettacolarità, nessuno si è fatto male. Parliamo di un tir inghiottito dalle fiamme lungo l'A14 tra Pesaro e Cattolica miracolosamente, salvo il camionista ma anche le auto che sopraggiungevano. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera lungo l'autostrada al chilometro 150 nella zona di Pesaro per l'incendio che ha coinvolto l'autocarro che era carico di pesce. Il mezzo è stato come dette completamente distrutto ma fortunatamente non ci sono state conseguenze né per il camionista né per le auto che sopraggiungevano. La cronaca legata ora all'alluvione è passato più di un mese, la nostra Laura Meda ha raccolto la testimonianza di uno degli alluvionati franco. Ho perso tutto il mio mondo, una questione legata certamente alla casa, alla famiglia ma pure alla sua condizione di salute. Sentiamo. Il dolore di perdere in una frazione di secondo tutto il proprio mondo, un dolore che non si può descrivere con le parole, è quello raccontato da Franco Paradisi, uno che comunque al dolore non è nuovo, anzi di difficoltà nella vita ne ha dovute superare tante Franco. Prima i problemi della sorella, poi la malattia che lo ha colpito dieci anni fa costringendola a lasciare il lavoro di speaker radiofonico che tanto amava. Io ho il marbo di Parkinson, mia sorella è diversamente abita, sento il mio down. In questa casa, a Pianello di Ostra, proprio dietro al fiume, vivono due famiglie, sei persone, eppure, spiega Franco, per tre giorni dopo l'alluvione nessuno è intervenuto. Tre giorni da incubo continua, in casa senza corrente e con l'acqua fino alle ginocchia. Mia sorella, poveranima, la notte si sveglia terrorizzata, urla e piange come una bambina distrata dalla paura. E io la notte mi sono tornato, mi sono venuto gli attacchi di panico. In comune hanno mandato tre ore la protezione civile e poi se ne sono andate. Le istituzioni promettono solo, fatte zero. L'aiuto è invece arrivato dai volontari e dai privati, prima per pulire, poi per individuare una sistemazione per i suoi cani, due San Bernardo e un Volpino, in una struttura di Morro d'Alba. E infine per trovare una nuova casa per Franco e gli altri. Il cuore grande di una famiglia di Montemarciano che ha messo a disposizione un intero piano della propria villetta ha fatto il miracolo, donando a Franco un briciolo di serenità, anche se la felicità per lui sarebbe ben altro. Ogni giorno Franco e gli altri da Montemarciano si dirigono insieme a Pianello e puliscono casa. Poco importa che ogni cosa, ogni mobile, ogni elettrodomestico sia stato distrutto e travolto da acqua e fango. Loro vogliono tornare lì, nel loro mondo. È una famiglia stupenda, ci danno tantissimo amore, un appartamento enorme, però la casa mia è casa mia. Quando apro quella porta, la mattina, ho i miei cani, ho tutti i miei gatti, tutti i miei animali, mi mancano tantissimo, mi mancano tantissimo. Non chiedo altro, chiedo la mia casa, la mia casa, i miei animali e il mio mondo. Questa è la forte testimonianza raccolta dalla collega Laura Ameda. Cambiamo argomento, 18 di ottobre comincia la vaccinazione anti-influenzale, con un occhio di riguardo, chiaramente anche al tema Covid e, perché no, anche alla questione del rischio nucleare. Le farmacie sono pronte, i pancini sono arrivati sia per chi ha diritto ad averlo a carico dello Stato, sia per chi vuole farlo così a pagamento anche. Al via da martedì 18 ottobre, la campagna di vaccinazione anti-influenzale nelle Marche. Sono 374 mila le dosi disponibili, ma se necessario, ha già fatto sapere la regione, saranno incrementate. Il vaccino anti-influenzale, spiega il presidente di Federpharma Andrea Avitabile, potrà essere effettuato sia presso i medici di base, sia presso le farmacie aderenti, quasi 200 su tutto il territorio regionale. Un ruolo fondamentale è quello delle farmacie continua avvitabili e soprattutto nei territori rurali. È importante averlo sotto casa, non doversi spostare. Per la vaccinazione Covid è stata una cosa molto molto importante e molto utile. Farmacie, presidio del territorio, anche nel rispondere alle richieste e alle paure dei cittadini, sempre più domande arrivano sulle pillole di iodio e sul loro utilizzo. Scompriamo subito il campo, non ci sono compressa lo iodio in farmacia, sono solo dei prodotti calenici che vengono preparati soltanto al bisogno. Qualora ce ne fosse bisogno, lo Stato è pronto, e l'Istituto Farmaceutico Militare se ne occuperà e distribuirà a tutti i cittadini. Speriamo che ciò non accada e non serva, però questo è per assicurare. È inutile fare la corsa allo iodio adesso. Più che altro, spiega Avitabile, si tratta di curiosità. Ma se qualcuno volesse davvero comprare queste pillole? Cerchiamo di spiegarlo perché è assurdo fare una vendita di un prodotto che in questo caso è davvero estremamente preventivo, per cui non vanno presi assolutamente e quando e se ce ne sarà bisogno ci si attiveranno dei canali particolari. Questo per quanto riguarda anche il tema delle pillole allo iodio. Andiamo ora su un tema legato al capoluogo regionale. Il sindaco Mancinelli annunciano, tornano i vecchi orari per l'illuminazione pubblica. e spiega ai microfoni del nostro Jack Giampieri anche il perché era stata necessaria questa operazione spegnimento. La rinegoziazione dei mutui consente di liberare delle risorse per coprire i costi dell'energia. E così l'amministrazione di Ancona ripristina gli orari dell'illuminazione pubblica che da oltre un mese veniva spenta con un'ora d'anticipo prima dell'alba. Un provvedimento assunto dal Comune perché chiamato a fare i conti con un bilancio gravato dall'impatto del caro bollette di luce e gas. Allora però la decisione non era stata vista di buon grado da cittadinanza e parte della politica che soprattutto in nome della sicurezza avevano chiesto a sindaco e giunta una retromarcia. Da subito veravate dimostrati attenti nell'ascoltare alcune richieste e quindi avete deciso di rimodulare quel provvedimento. Da quando sarà operativo? Sarà operativo da qui a qualche giorno da qui a qualche giorno perché ci sono ovviamente problemi tecnici per riattivare il precedente orario. Voglio precisare questo in queste situazioni non è che si pigliano decisioni a cuor leggero ovviamente e purtroppo ogni decisione che si prende ha comunque delle controindicazioni. Un mese fa ci avevamo sostanzialmente un buco di un milione di euro circa rispetto al fabbisogno per l'aumento del costo delle bollette e non avevamo altre possibili fonti per coprire questa differenza e dunque abbiamo dovuto provare ad attivare misure anche complicate che creavano e creano purtroppo disagio. Nel frattempo, proprio pochi giorni fa, siamo riusciti invece a perfezionare un'operazione di rinegoziazione di mutui si dice così, tradotto come una famiglia che c'è al mutuo con la banca per la casa e non riesce a pagare le bollette però siamo riusciti a rinegoziare con la banca che per noi è Cassa Depositi e Prestiti abbassando la rata di mutui in maniera significativa questo ci ha dato un po' di ossigeno sul piano economico e ci ha consentito quindi anche di rivedere quella decisione che sicuramente avevamo preso non a cuor leggero come altre, ma le altre che hanno meno impatto e creano meno disagio, le altre invece le manterremo quindi questa da qui a qualche giorno sarà superata verrà ripristinato l'orario precedente. Mi ricordo in chiusura una settimana speciale quella anche per Etivo oltre che per Materica Castella e Raimondo in arrivo la Nazionale Cantanti per Lulu e il Paese del Sorriso le telecamere della nostra emittente saranno a bordo campo venerdì sera non saranno solo personaggi della musica, dello sport e dello spettacolo a scendere in campo venerdì a Matelica al Giovanni Paolo II è arrivata anche la conferma della presenza del professor Bassetti l'evento allo stadio con il cuore si terrà a Matelica e Castella Raimondo dal 20 al 21 di ottobre ve ne parleremo nel corso di questa settimana un appuntamento in particolare venerdì sera allo stadio per tifare la solidarietà è tutto, grazie e buon proseguimento vi lasciamo alla sintesi della nostra rassegna stampa grazie a tutti